ciao ragazzi primo video con la squadra della bodistica prima uscita dell'anno vediamo le 1 ulti ciao 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 a te o vai ciao alessandra vai vai paolo costantino vai vai buona domenica ragazzi primo video con la bodistica dai e quest'anno facciamo sto squadrone grande forza ragazzi forza now is the moment e andiamo a a monteporzio da monteporzio proseguiamo e a monte compadri è tutta intorno al 3 per cento perfetti fino al 4 io la faccio pole polo a cuna matata al 5% c'è usura ragazzi vedete qua che c'è il briefing forza ragazzi forza che treno grande grande gianni il ritorno di nibali grandissimo vicinismo ignorante della bodistica ragazzi perciò ora vengono la rocce da qua da qua dai 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 forza allee 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 andiamo attacchiamo attacchiamo forza ragazzi ahahah 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 dai 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 si feriti dai grazie la solista dai 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 forza 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 attacchiamo vai vai troppo forte troppo forte ciao ragazzi al prossimo video to 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 to